Completamento della piegata. Prende velocità la macchina. Parte piano la Reverle Bar. Reisi Kronos con papà legati alla chiusura e nei confronti di Randy e K. Cavalli che affrontano la piegata, si fa spazio Randy e K, potrebbe parcheggiare, rimane lì al Sanky, poi Reisi a Jet. Parcheggia Rockefeller di no. Si va al completamento del lancio in quattordici e mezzo per Reisi Krosmos. E così la femmina di Jet Photo con papà legati al comando e progredisce Record Regal e viene via anche Reverle Bar e anche Richeram del Runco. 31.400 e si va dopo cinquecento metri di gara. Cavalli al completamento e la vettilinio di fronte. Ed è Richeram del Runco che si presenta. 46.600, 31.500 e questi 400 intermedi. E si è fermata una seconda pariglia a largo. Siamo al completamento della stessa. I cavalli che si presentano davanti alle tribune. Mezzo miglio in 1.2 e davanti alle tribune quindi Reisi Krosmos, Richard e Runco, poi l'8 di Randy e K, allargo il 6 di Record Regal, allargo la favorita Reverle Bar. Primo chilometro nell'ordine del 16 e mezzo. L'andatura tutto sommato è brillante. E cavalli che affrontano la penultima curva. Non ci sono variazioni sostanziali. Ora può respirare un po' papà René Legati con la sua gestfoto, 16 e 3 impiegata. E viene via Reverle Bar, allargo di tutto, e anche Ryan Gar. In poche battute la Varenne di casa Lessi va decisa a pariglia l'altra leader. 14.8 di fronte, alla finestra Ryan Gar che si affaccia mentre la Varenne sta liquidando la lieva di Legati. Passa la targata Bar e prende vantaggio. Miglio, 2.2 meno un battito. Reverle Bar al comando, poi Ryan, Reisi che si riprende. Completamento è la curva finale. Allunga nuovamente la Varenne. e prende netto vantaggio. Un'ottima Reisi Cosmos lotta con Ryan Gar che è minaccioso. Accento dal traguardo. Sanssouci sans problème, sanssouci sans problème. Per la Reverle Bar con Alessi Insalchi, ottimo. Ryan, ottimo secondo. Bene bene, Reisi Cosmos con papà Legati. 2.32, 1.16, bella vittoria come da pronostico. 1.81 in chiusura. Di quest'ennesima Varenne con un Alessi senza proprio sbavature come al solito nelle sue guidate. Alla grande Ryan Gar rivista al meglio col dottorino. Non male questa Cosmos con papà Legati Insalchi. 1.95 e la Toscana che primeggia in questa seconda. E ora mozzarella per l'ottimo Alessi e anche targa d'argento con il professor Maselle, il dottor Alfano in pista e Paolo Petrilla per premiare. 2.32, 2.32, 3.75.